Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale. Oggi andiamo a vedere come funziona il nuovo infotainment di Chiappicanto. Questo presenta uno schermo touch da 8 pollici ad alta risoluzione, integra funzioni di navigazione, meteo di tempo reale e molto alto grazie all'applicazione UVoconic. Andiamo a vedere i dettagli come funziona. Nella parte sottostante dello schermo presenta le funzioni con i tasti rapidi, radio, media, le possibilità di cambio e stazioni, tasto preferenziale e il tasto menu. Premendo il tasto menu in alto a sinistra, aprendo il menu a tendina, si possono vedere che si possono modificare a proprio piacimento i vari widget. Andiamo ora a vedere cosa c'è all'interno del menu. La possibilità di utilizzare il telefono o configurare un eventuale telefono bluetooth, android auto, apple carplay, il manuale in formato digitale, cioè il libretto di istruzioni, promemoria vocale, radio, multimedia e impostazioni. All'interno delle impostazioni invece troviamo la possibilità di regolare l'equalizzatore, di connettere un eventuale dispositivo, di regolare la luminosità del display, il tasto pulsante, generale o wifi che dopo vi andrò a spiegare. La funzione generale invece permette di regolare date e ora, aggiornare il software di sistema, vedere le informazioni del sistema, cambiare la lingua e aggiornare la tastiera. La funzione wifi invece permette di utilizzare, una volta configurato il cellulare col bluetooth, di utilizzare la propria linea internet come hotspot all'interno dell'abitacolo. Premendo su connessione dispositivo si apre la facciata che ci permette di collegare uno o più telefoni tramite bluetooth. Inoltre cliccando su proprietà di connessione è possibile impostare un telefono come predefinito in modo che quando in auto sono presenti due cellulari la connessione avvenga in modo automatico con quello scelto. Rimanendo su connessione dispositivo è possibile avere informazioni sul sistema bluetooth della vettura ed è anche possibile effettuare il ripristino ai dati di fabbrica che permette la cancellazione di tutti i dispositivi connessi alla macchina. Premendo invece su proiezione a telefono avremo la possibilità di collegare un dispositivo apple carplay o android auto senza utilizzare il cavetto usb. Torniamo ora al menu principale e analizziamo la funzione display da qui abbiamo la possibilità di regolare la luminosità impostare il filtro luce blu il salva schermo e le altre opzioni di configurazione ma è anche possibile modificare personalizzare la schermata iniziale tramite widget. Sempre sul menu principale troviamo il tasto pulsante che ci dà la possibilità di assegnare una funzione a nostra scelta al tasto con la stellina e al tasto mode il primo si trova sullo schermo in basso a destra fra i comandi rapidi mentre il secondo è situato sul volante. Infine nel menu principale troviamo la funzione manuale da dove è possibile scannerizzare col proprio dispositivo il QR code e scaricare il manuale di istruzioni della macchina direttamente sul cellulare. Dopo aver analizzato l'infotainment di Kia Picanto parliamo brevemente del funzionamento della Pubo creata in esclusiva da Kia. Il sistema permette di digitalizzare la guida del tuo veicolo in due diversi modi. Una volta attivati i servizi Kia live usano la scheda sim inclusa nel sistema di infotainment per recuperare e aggiornare dati in tempo reale visualizzando le informazioni direttamente sullo schermo del navigatore. I servizi che si possono visualizzare sono informazioni sul traffico in tempo reale, segnalazioni di autovelox e di aree pericolose, previsioni del tempo, punti di interesse tipo ristoranti, aziende o attrazioni turistiche, stazioni di servizio e parcheggi. La Pubo è scaricabile sia per Android sia per iPhone e permette di gestire il veicolo anche da remoto ad esempio visualizzando lo stato della vettura. Un'altra funzione interessante dell'applicazione trova la mia auto che ti guida verso la macchina in pochissimo tempo. E ora siamo giunti alla fine se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, un saluto a tutti e al prossimo video.